Alla fine di luglio la giunta provinciale di Bolzano aveva varato una misura d'ocche per tutelare le aziende locali negli appalti pubblici, prevedendo che l'attestato di bilinguismo venga considerato un elemento centrale nelle gare della provincia. Passati pochi giorni si è scoperto che in due settori piuttosto delicati come la somministrazione di prodotti alimentari ai comuni e alle aziende sanitarie e il trasporto di disabili, i contratti sono destinati a finire fuori dall'Alto Adige. In particolare ha creato molto rumore la notizia dell'azienda di Lecce che avrebbe messo le mani sul servizio di trasporto per persone disabili. Dovrà mettere a disposizione oltre 50 bus, la metà dei quali attrezzati per ospitare persone in sedia a rotelle e 80 accompagnatori preparati sia dal punto di vista della conoscenza del territorio sia di quello del contatto con le famiglie per lo più di madrelingua tedesca. La nostra proposta sarebbe per esempio che la provincia accredita tutti quelli che sono interessati a dare servizi alla persona. Queste istituzioni accreditate devono avere un minimo di qualità e questo lo deve garantire l'accreditamento della provincia. E poi il cliente che necessita di questi servizi potrà scegliere fra queste istituzioni accreditate. Questo sarebbe un mercato nel senso, cioè in interesse del cliente. La Leibensilfe è un'associazione privata senza fini di lucro che opera sul territorio provinciale altoatesino proprio nel settore dei servizi sociali e che rischia di vedersi scippare parecchi appalti nel comparto dei servizi alla persona. La preoccupazione è fondata anche perché l'Europa impone gare il più possibile aperte senza limiti inerenti alla territorialità. I sindacati intanto segnalano che esistono in Italia precedenti all'insegna del protezionismo. Diciamo che c'è una regola che in Emilia Romagna già esclude concorsi. Sarebbe stata la possibilità di dare quel servizio direttamente a imprese altoatesine così che anche il servizio sarebbe rimasto in alto adegia. Tornando all'appalto di beni alimentari per comuni e aziende sanitarie, è bene ricordare che si tratta di una maxigara suddivisa in 34 lotti, 28 dei quali sono andati a ditte di fuori provincia. Ma si tratta di gare per cifre notevoli per i piccoli appalti. I fornitori locali possono stare tranquilli. Quindi i piccoli comuni, le piccole amministrazioni e i loro piccoli fornitori non sono assolutamente vincolati da questa convenzione. Questa convenzione è vincolante per i grandi volumi di acquisto delle aziende sanitarie e dei grandi comuni, dove è opportuno anche accentrare e ottenere un prezzo migliore perché le forniture possono essere fatte quasi all'ingrosso. Ma ripeto, il piccolo comune, il piccolo fornitore locale dell'asilo del comune non è danneggiato o non è in concorrenza con questa gara.